Ciao ragazzi! Oggi abbiamo MekArt, MekArt X, MekArt Thanatos e MekArt Gerion, si tratta di queste mega robot, avete visto la pubblicità su tv? Ecco abbiamo anche noi, secondo te si trasformano in macchina, tipo un transformer, quale apriamo per prima, quale apriamo per questo? ok! Dai apri apri! Adesso prendi? Si prendi? Oh madonna, tiralo tutto via, tira tutto via, ecco tira Alex, Stirano, dai! Cosa c'è? Tiriamo lì? Ragazzi, finché Alex adesso ci guarda quel robot, sì, lo so che a voi interessa tanto da scopriri, ma a me interessa tutta la colizione cosa esiste con questo robot? Perché? Wow! È stupendo! Alex, tu lo sai quanti modelli ci sono? Wow! Guarda qua! Ragazzi, dobbiamo colizionare tutti Alex, noi abbiamo presi solo tre dobbiamo acquistare, andiamo a negozio Ragazzi, intanto vi scusiamo, salutiamo, andiamo a prendere le altre No, no! Facciamo video? Va bene! No, scherziamo noi abbiamo ancora queste tre abbiamo altri acquistati per le altre Guardate queste qui! Quanti sono qua? In totale ci sono, in totale ragazzi ci sono in totale ci sono mia carta, vorranno tutti i collezionari combatti su questo si può combattere tutto ma quanti ci sono in totale? dove c'è scritto? 13, 33, 35 36 pezzi Ragazzi, impossibili 36 macchine tutti da collezionare diversi colori tutti trasformabili diversi macchine non c'è nessuno uguale Alex, tu hai capito? nessuno mi piace questo qua e non si capisce come si trasforma ah ecco adesso iniziamo ragazzi non si capisce come si trasforma eccolo il trasformer è un trasformer di Alex ragazzi, non è possibile non si sa come si monta come si monta però, secondo me Alex queste quando fanno una botta ti ricordi con quelle macchine che si spaccavano queste secondo me si trasformano fanno incidenti si trasformano subito in robot però lo sai cosa dobbiamo fare prima? o devi aprire te quello o io devo aprire io aspetta però abbiamo abbiamo i card con queste card ragazzi vedete qua con queste card ragazzi si può giocare c'è un gioco quando acquistirete leggete come si può giocare io lo so lo sai? io lo so nella tv ho visto quando la macchina è la macchina si e prende la carta si e vedi la carta se ha vinto ah giusto è più forte allora ha vinto quella le regole ragazzi noi ci guardiamo dopo di questo gioco a me mi interessa apriamo il tuo si adesso vi faccio vedere ragazzi questa qui macchinina eccola qua com'è bella questa vedete tutta però si trasforma ecco la testa qua qui qualcosa così però non si capisce per il momento come si trasforma ecco 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 sì no lo faremo dopo ragazzi voi quasi avete visto come si monta apri apri sempre sempre troviamo tre tre cartellini qua vedete queste qui sempre da giocare un scorpion è un scorpion questo è il tuo ha tre teste aspetta aspetta Alex questo Gerion vedi sì come scorpion sì con coda quella di dietro guardate ragazzi come si chiama Gerion ma io non vi ho fatto vedere il mio perché il mio Thanatos eccola qua vedete Thanatos Alex proviamo adesso a montarli proviamo a montarli o apriamo questa qui super mega grande apriamo quella ragazzi apriamo questa super mega grande sì ragazzi apriamo super mega grande Alex apriamo super mega grande ragazzi se volete che noi apriamo super mega grande fine alla fine del video dovete cliccare sul campanellino o non lo apriamo eccola qua io lo lascio qua vedete questo qui voi cliccate sul campanellino adesso ci guardiamo chi di voi ho cliccato lì sul campanellino se non ho cliccato nessuno non apriamo intanto noi montiamo le macchine io ho capito ragazzi come si montano come non ho capito perfettamente però i bracci vedete questi qui forse si montano qua eccoci qua la testa va giù così questa si chiude e la macchina è quasi pronta sì esatto ecco Alex io l'ho fatta io l'ho fatta però Alex ragazzi tutte queste macchine hanno il suo modo di costruzione ci serve un aiuto ti dico io ok Alex questo le bracci secondo me le bracci vanno vedi qui nascondiamoci eccoli qua aspetta adesso questo così questo così può darsi no aspetta 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 sì che bello sì Alex non rovina quello ancora aspetta oh ecco così no no oh sì ecco la ragazzi ce l'abbiamo fatta e guardate che queste due modelle sono completamente diverse una di un'altra guardatele tutti adesso dobbiamo scoprire quale di Alex e quale è mia Alex ti ricordi quale era tua? sì come sì? io non mi ricordo questa sì va bene e adesso come facevano? devono combattersi ho vinto io avete visto ragazzi? guardate questa qui ho vinto così come sta forza a piangere così boh bah questa qui lo sai che roba che ho fatto così ho preso una botta ho vinto a piangere no aspetta dai io questo mi sto vinto ho capito che tu hai vinto però io voglio un'altra ripartita perché riproviamo dai, uno, due, tre Ossè! No, ragazzi, non faccio, aspetta, ma io voglio sapere così se si distruggi o no? Vediamo, ragazzi siete pronti? Siete pronti, aspetta, siete pronti Tu hai cliccato su campanello? No! No, lui non ha cliccato su campanello Noi per te non faremo video Aspetta Alex, ecco Allora, vai Però si rompe, allora monta Monta indietro, monta indietro Proviamo di nuovo, io voglio vincere Io voglio vincere, se no io prendo quello mega grande Vi ricordate cosa abbiamo detto voi? Che ragazzi apriamo adesso questo mega mega grande Beh, però aspettiamo che tu clicchi su campanellino Dai, Alex hai montato? Mh Dai, prova Aspetta, prima questo devi mettere, si lo porta perché se no vedi che non entra Vedi che non entra, prima devi... Eh... Fai questa cosa Allora ci siamo Dai, uno, due, tre, via No! Era fermo, ho vinto io però No ragazzi, io ho scoperto Io ho scoperto una cosa Vi lo dico ragazzi alla fine del video Adesso riprovo un'altra volta E dopo ve lo spiego No, adesso te Cosa io? Io lo sapevo già prima Questa qua così Tieni Come tieni, Alex? Se tu tieni, come io posso tieni? Dai Questa abbassa Abbassa Dai, vai Ci sei? Si Dai Uno, due, tre No, non è valido No, non è valido Adesso ti posso passare Allora, no, aspetta Ragazzi Vi dico sinceramente Io ho trovato un modo come sempre vincere con queste macchine Però, campanellino Aspettiamo Allora, Alex Dai, monta col tuo Ci siamo ragazzi Noi con il terzo Con il terzo Transformer Apriamo Io non vedo l'ora di aprirlo E vedete com'è Guardiamoci dietro la scatola Guardate cosa c'è qui Io non lascio un robot Lascio il Scorpion Va bene E anche te Alex Ma quella di Transformers Camion Come si chiamava Che si trasformava in camera? Oh Sempre ragazzi abbiamo tre cartellini qua Wow E io voglio montare Che grande Ragazzi ma guardate com'è bello Aspetta C'è qui qualcosa Vedete c'è un Un scudo Guarda sotto Dopo mangiare Ma questo è cattivo Ragazzi Questo è cattivissimo 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 Un scorpio Aspetta Alex Un scorpio Un scudo Un ragno Ma io non ho trovato istruzioni di ultimontaggio Come mai non c'è No eccolo Eccolo ragazzi Questo è sicuro che diventa camion Sicuro Eh si Guarda sulla scatola Ma tu lo sai che come camion Come camion Ci sono ci sono ci sono Come camion Ci sono ci sono ci sono Oh ci guarda come camion Come Scorpion Uno due tre Quattro Eccolo il nostro Cinque no No questo è il nostro No questo Si questo si Si chiama Ah mia Cardiac Si 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 Ma bello ragazzi Guarda sotto Può uccidere Ragazzi veramente veramente bello Mi piace Io voglio montare Questo ti può uccidere Perché tu sei sulle gambe E qua guarda c'è una grande bocca del Aspetta Alex Proviamo a montarlo Vediamo 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 Questo qui sopra sicuro Questo qua di sotto E questo qua di qua Oh Ah questa di davanti Si 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 così Così E dopo chiudiamo dietro! Ci siamo? Guardate ragazzi questo camion! Com'è bello! Com'è fatto! Mi piace tantissimo! Vedete, neanche non sembra che sia un Transformer però se guardiamo se guardiamo di sotto vediamo così Avete visto? Hai visto Alex che si vede un mostro? Eh sì! Anche queste non si vedono perché si chiudono Sì ma questo è proprio un mostro Guardate lì dentro ragazzi a me piace Allora facciamo... Chi da noi era più forte? Questo! Mio! Tu con quale vuoi giocare? Con tutti e tutti Come con tutti e tutti? No, tu mi devi fare vincere almeno Aspetta! Allora questo si deve mettere là Cosa? Questo! No! Quello non si mette là! Non si deve vedere! No 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 no! Allora io... Guarda! Io ho un'idea come si trasformarlo! Guarda! Non lo devi trasformare! Adesso te lo trasformo! E adesso? Adesso come giocherai? Come giocherai adesso? Cosa? No! Cosa? No! Alex non si gioca! Cosa? No no no! Ragazzi Alex... Fa sempre fombetto così! Voi sempre vuoi vincere però... Non ne gioca! Hai regole! Alex io sono pronto! Le mie macchine sono pronte! Tutti e due! Tu sei pronto con il tuo rabone! No! Ma perché Alex? Perché hai fatto così? Questa qua! Questa mettiamo! Questa chiudiamo di qua! La spada! Questa così! Io ho un bonus! Io ho un bonus! Perché ho la spada! Un bonus! Un bonus tu hai certo! Bravo! Un bonus! Adesso io devo montare! Vedi che se non si monta! Il bonus significa che se mi... Se mi... Se mi... Se mi... Uccidi non mi puoi uccidere perché un bonus è la spada! È un cubetto! Allora dai! Tu con il camion io prima faccio con la mia macchina! Uno... No! Non deviamo andare così! Uno, due, tre! Se! Quasi sì! Però non è tutto! No! Togli il limone? No! Raz, два, tre! Se! No! Io sono emozionato! Avete sentito ho contato io in russo! Raz, два, tre! Si Alex! Raz, два, tre! Cosa significa in russo? Uno, due, tre! Quattro, cinque! No! Uno, due, tre solo! Allora ragazzi! Il camion va in un'altra battaglia! Adesso io apro! Provo a fare di nuovo! Uno, due, tre! Io! Avete capito? Secondo me sia la macchina più grande è più possibile che vincerà questa macchina! ragazzi! Ragazzi! Dovete essere con la testa! Alex! Io ho scoperto una cosa qua! Guarda! Tirando un foglio! Vedete che io ho tirato un foglio lì dentro! C'è un segno! Di chi? Segno più o meno come da chi? Scarpio! No da scopo! Sì! Questo è come scarpio! Però come ci hanno lì? Allora anche qua! Ci hanno queste! Come si chiamano? Allora anche questi! Ahhhh! Transformers, no? Più o meno uguali! No, Asenio? Sì! È il segno di cattivi! Bello, bello! Sì sì sì! Ecco, si vedi dopo adesso, si vedi di qua! Ecco! Allora tutti sono i cattivi! Loro due sono i... Ragazzi! Avete clicato sul campanello? Tu hai clicato sul campanello? No! Allora! Perché siete stati così e nessuno di voi non clicato? Noi vi salutiamo! No, Alex! Non salutiamo! Noi andiamo a prendere altri! Guardate nel prossimo episodio apriamo altri cinque! E robot! Solo per questo! A memento io ho sentito tantissimo queste giuseppe! Dai! Sbrigati! Andiamo! Questo mio! Questo mio! Ciao ragazzi! Ciao!